Ok, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Allora, oggi... Salute. Oggi quello che faremo in queste tre ore è, prima di tutto, facciamo un esercizio su tutto quello che abbiamo visto finora con Flask. Quindi, in parte, quello che avete anche fatto già in laboratorio, mercoledì, in parte, quello che farete mercoledì, dopodomani, in laboratorio. E questo ci porterà via la prima ora, la seconda ora andremo un pochino avanti con gli argomenti che ci mancano, che sono, quindi, i form, prima di tutto, poi anche le sessioni e così via. Quindi, io sono partito dal solito esercizio che avevamo, quello che abbiamo iniziato a creare tempo fa, insieme, con Bootstrap, eccetera, e l'ho solo portato all'interno di un progetto Flask. Quindi, il passo zero, per cui ho preso l'index HTML e l'ho messo nella cartella Templates, ho preso lo style e l'ho messo nella cartella che si chiama Static, e ho creato un'app .js che importa Flask e renderizza il template index che non ha niente di particolare. Ok? Quindi, giusto per vedere se ci sono degli errori. Io ho fatto solo copia e incolla, ma non ho ancora fatto mai run di tutta questa cosa, quindi potrebbero esserci qualche errore, qualche import che non funziona, non tanto nel file Python, in quanto, essendo tre righe, è veramente difficile, ci sia qualcosa che non va, ma magari nell'index. Quindi, diamo giusto un'occhiata, che importiamo Bootstrap dal CDN, importiamo lo stile con URL4, perché deve essere fornito dalla cartella Static, e in questo style CSS non avevamo niente di che, se non margin top e un'ampiezza al 25% per l'immagine, e poi tutto il resto l'ho lasciato uguale. Possiamo, ecco, cambiare anche questa URL dell'immagine, visto che abbiamo URL4, e andare a mettere, invece che Static, possiamo fargli generare direttamente il, la URL da Flask, e poi questo link al momento chiamiamolo 1.html invece che CSS.html, e poi eventualmente vedremo perché. E poi qui ci sono questi altri post che al momento non ci interessano, quindi fatemi togliere qualunque link a questi, tanto erano solo i più visti del momento, ma al momento abbiamo uno solo, quindi, così come i migliori commentatori che si rifaceva ai profili delle persone, che non abbiamo ancora, quindi. e poi importavamo il JavaScript. Ok? Quindi proviamo a lanciare questo e vedere se va, quindi Flask, meno meno debug, run. e lui ci apre, ci fa partire un server su la porta 5000 a 127.001.5000. E direi che, se sistemiamo lo zoom, c'è quello che avevamo fatto all'epoca, ovviamente possiamo anche adesso riaumentare un po' lo zoom, così. si vede meglio, con questi link che ovviamente non funzionano, perché non sono neanche, sono ancore alla pagina, senza niente, e invece questo CSS che porterebbe alla pagina 1.html, che al momento non esiste. Ok, questo è proprio il passo zero in Flask, che è che prendere un file HTML e CSS e portarlo dentro Python, in modo che sia servito da un server. Fin qui siamo a posto? Avete o avete avuto dei dubbi? Anche in laboratorio? No. Ok. Ok, qual è il prossimo passo? Ed è una domanda per voi. cosa facciamo adesso con questo esercizio? Niente, non è un'opzione. Andiamo a casa, anche se piacerebbe a tutti, compreso me, non è un'opzione. quindi? Cosa abbiamo visto in Flask? Oltre ovviamente URL4 e una singola pagina, come si compone? Abbiamo visto il concetto di eredità del template. Ok, quindi come rendiamo questo? Proviamo a pensare un attimo. Come rendiamo questo? un template. ereditarietà in un template. Allora, quali sono? Noi nell'esempio che abbiamo fatto anche in aula, avevamo un esempio molto semplice, perché abbiamo avuto un base template, che aveva giusto l'head e tutto il contenuto. Questo è un po' più complicato di quello, perché lì era un file HTML semplice, qui invece volendo abbiamo vari pezzi della pagina. Abbiamo la navbar, abbiamo la parte principale, abbiamo questa sidebar. Quindi, se noi volessimo fare, facciamo una copia di questa. E chiamiamolo base, che sarà il nostro base template. Cosa andiamo a trasformare in un blocco? O in blocchi? Noi possiamo immaginare anche di avere un'altra pagina, che è presentazione, il nostro about, che avevamo anche nell'esempio e che avete anche nel test, nel laboratorio. Quindi immaginiamo pure di avere queste altre due pagine che funzionano, o anche solo presentazione che funziona, che avrà una navbar, provare il testo e poi avrà una colonna. Quindi stesso layout della home page. Cosa facciamo diventare un blocco? la navbar la facciamo diventare un blocco. Ok, poi? Questa? Questa arriva? Un blocco unico o due blocchi? Uno per i più visti e uno per i migliori commentatori oppure uno per tutta la sidebar? Ok, quindi un blocco per lista e un blocco per la sidebar anche oppure no? Quindi un blocco che contenga i due blocchi. Quindi noi stiamo dicendo tutto questo diventa un blocco, quindi questa parte sopra sparisce in un certo senso, diventa una variabile, un posto che si può riempire. Poi, ovviamente, all'interno di questo blocco ci saranno parti fisse e parti non fisse. Poi abbiamo la sidebar, che è questa di qua, e lui dice facciamo un blocco per i più visti del momento e un blocco per e i migliori commentatori. Facciamo anche un blocco per la sidebar in modo che, se volessimo, possiamo rimpiazzarla interamente oppure la lasciamo nel base template e facciamo solo due blocchi per cui la sidebar potrà avere due blocchi al suo interno lungo tutto il sito. Lui dice ha senso fare un blocco che contiene tutta la sidebar. Opinioni? Sono le 4 e un quarto, se dormite già adesso alle 7, cosa facciamo? Opinioni? Magari c'è anche un discorso di spazio che vuole fare lo spazio per la sidebar che nel fondo dei blocchi non è nemmeno che è tanto che vuole fare lo spazio? Beh, quello ni, nel senso che lui comunque avremmo comunque la definizione della sidebar, ovviamente nel base template la differenza è che invece di avere un unico blocco che racchiude tutto, eventualmente poi divisi in altri due blocchi, ne avremo due già lì, quindi appena la pagina che eredita dal base andrà a mettere i contenuti lo spazio si riempirà nella maniera corretta, quindi questo non cambia da quel punto di vista. Qualcuno che è contrario all'avere anche un blocco singolo o solo un blocco singolo per la sidebar? E perché? O qualcuno che ha favore? E perché? Magari in un'altra pagina non ci serve potremmo toglierla. Toglierla non tanto perché avremo sempre come dire avremo quantomeno sempre questo che è un LG 4 quello che è sarà vuota e quindi non si vedrà. Però ecco può aver senso metterci qualcos'altro o magari in un'altra pagina avremo più di due blocchi ne avremo tre e allora o uno e allora possiamo anche avere decidere di rimpiazzare tutta la sidebar per esempio. Queste sono scelte che ovviamente in laboratorio non fate ma che per esempio per all'esame per dirne una dovrete fare decidere che cosa diventa un blocco e che cosa non lo è che cosa ha senso e cosa non ha senso allora ha senso sicuramente averne dipende da come ha fatto l'intero sito se nell'intero sito avessimo sempre solo due blocchi nella sidebar avrebbe assolutamente senso avere solo due blocchi nella sidebar se avrebbe senso avere anche solo un blocco che rappresenta tutta la sidebar e anche una combinazione delle due cose per i motivi che avete detto quindi queste sono tutte e tre opzioni che possono essere valide in base a come ovviamente l'intera struttura del sito sarà noi adesso abbiamo una pagina sola e ci possiamo immaginare un'altra pagina ma avendo una struttura più fissa decisa a priori possiamo anche fare questo tipo di ragionamenti quindi qui in questo caso sicuramente avremo un blocco che racchiude tutta la sidebar e magari avremo anche due blocchi che all'interno avere due blocchi all'interno vuol dire quantomeno avere due blocchi all'interno vuol dire che se andiamo avanti con l'editarietà potremo avere un'altra pagina che va a sovrascrivere questi due blocchi e ci mette altro contenuto ma solo due se deve sovrascriverne per metterne tre non può più sovrascrivere la pagina che definisce i due blocchi ma dovrà sovrascrivere la pagina base che definirà un blocco unico per la sidebar quindi a seconda della scelta che viene fatta certe cose diventano più facili o meno facili poi che altri blocchi facciamo la sidebar l'abbiamo risolta così sicuramente un blocco per tutta la sidebar e poi vediamo se definire anche due blocchi singoli adesso abbiamo una pagina sola quindi ha senso definire due blocchi singoli se avessimo più pagine altri blocchi? un blocco per il main e un blocco per il footer se noi avessimo più post del blog vorremmo fare più blocchi oppure uno solo? adesso abbiamo uno solo ma immaginiamo di averne tre più blocchi nel senso di ereditarietà non più blocchi per definirlo per il gusto di definirlo nella pagina e poi non usarlo più in un'altra pagina siete d'accordo? avete sentito se non lo ripeto? e se fossero quattro invece che tre blocchi e i post o cinque o dieci su due pagine? dato che questo è un blog è un sito di un blog ha senso come abbiamo fatto per la lista dei docenti nel corso nell'esempio della settimana scorsa avrebbe senso in quel caso avere un unico blocco e poi con un ciclo andare o a creare tanti blocchi uno per ogni post dipende potremmo anche decidere che questo è un blocco che la struttura di questo è un blocco e andare a sostituire solo il titolo la data e la ur dell'immagine e lasciare a un altro template la possibilità di disporre gli elementi come vogliamo quindi ciclare e creare ogni volta riempire tanti blocchi quello può essere un'altra opzione però ha senso sicuramente avere un blocco sul main e poi ciclare per ogni blog post per andare a riempirlo ok quindi abbiamo detto almeno un blocco nella navbar almeno uno nella navbar uno nel main uno nel footer e almeno uno nella sidebar quindi cosa cambiamo qui nella head dobbiamo cambiare qualcosa nel head questo è base non è più index questo è la struttura base da cui riditiamo dobbiamo cambiare qualcosa nel head che quindi possa essere personalizzato rispetto alla pagina in cui siamo scusa? il titolo quindi title tutto o solo un pezzo? solo? sì il titolo però in questo momento ha due parole e una stanghetta solo un page come si definisce un blocco? come facciamo a definire un blocco qui? io scrivo block parentesi graffa poi? due graffe poi title ok poi il css in questo caso non ci interessa cioè non ci interessa è comune a tutta la pagina a tutto il sito anche file di stile in questo momento possiamo immaginare che ce ne sia uno per l'intero sito poi l'header abbiamo qualcos'altro a togliere nel led e far diventare blocco opzione 1 no opzione 2 sì chi dice opzione 1 che è o no lui dice no anche lui ok l'area a destra dell'aula dice più o meno no l'area a sinistra dalla mia prospettiva ovviamente non dice no direi che non ci sono altri blocchi nel led da riempire ok andiamo avanti sul body non fatemi ripetere la domanda che blocchi dobbiamo fare nel body? è una domanda beh in realtà c'entra lo stesso allora quello che potremmo potremmo andare a personalizzare una parte di quella lista in base alla pagina in cui siamo no perché un conto è dire questo è il contenuto del sito il contenuto del sito è sicuramente sul web perché è per no è vero il blog sul web quindi è sul web è sicuramente un blog anche quando saremo in un post di un blog saremo comunque in un blog e magari non parliamo di html o di css magari parliamo di javascript e quindi ovviamente gli altri due c'entrano fino a un certo punto o magari parli di python perché parli di flask quindi potrebbe essere una lista che si potrebbe personalizzare con un blocco che ogni pagina che vuole personalizzarlo può personalizzarlo ok adesso non stiamo a farlo però era con la procedura o con il doppio graffa e poi dobbiamo fare la colonna sonora no cosa ho fatto ok così? scusa? così? sennò python si sarebbe lamentato e l'avrei lasciato lamentarsi finché non lo sistemavamo ok ora abbiamo detto che dobbiamo trovare un blocco per la navbar la nostra navbar però è composta sia da un header che da un nav e probabilmente ogni pagina avrà la navbar quindi un blocco che racchiuda tutta la navbar può essere eccessivo perché non è che nella prossima pagina andiamo a cancellare la navbar e mettiamo una roba totalmente diversa al suo posto sarà sempre blu avrà sempre questi bottoni perché è la navigazione principale del sito non è che cambia da pagina non dovrebbe cambiare da pagina a pagina la navigazione principale del sito quindi se in principio può essere un blocco perché concettualmente è un elemento separato nella pratica dove andiamo a metterlo se andiamo a metterlo un blocco sì non ho capito dove però scusami dimmi la riga se la vedi da qua quindi tutto questo tu dici mettiamo tutto questo in un blocco la mia idea è devo cambiare portando alla fine in altri in casi perché quando cambio pagina alla fine guardi quello che è possibile in casa la pagina quindi io lo faccio con un super spero con un super poi dovrei andare ad aggiungere un po' se non vediamo e a questo punto c'è sostanzo una possibilità di questo gioco sì allora sicuramente ha senso è sicuramente questo il pezzo che ci interessa modificare perché il resto non cambia quello che cambia come diceva giustamente lui è che nella home page sarà attivo il link della home page e nella pagina presentazione sarà attivo presentazione e questo sarà più grigio chiaro quindi un mod dire ok facciamo un blocco all'opposto di questo e poi andiamo a riempirlo tutte le volte con lo stesso identico contenuto dove quello che cambia è che questo active invece di essere scritto su home sarà scritto per esempio su presentazione cosa ne facciamo tre adesso mettiamo tre blocchi uno qui uno qui uno qui e poi modifichiamo quello che ci serve cosa ne dite quale dove sarà andiamo rimpiazziamo tutta l'OL che ovviamente poi nell'altra pagine sarà identica se non per un una classe che sarà active oppure facciamo tre mini blocchi che l'unica cosa che faranno è andare a dire qual è la classe attiva ok il lato di qua dice con tre mini blocchi il lato di qua a parte lui che ha detto un blocco solo allora abbiamo opzione uno facciamo un unico mega blocco con tutto questo dove nella home page andremo a incollare questo così com'è e se fossimo nella pagina di presentazione andremo a rincollare questo così com'è dove l'unica differenza è che questa classe active si sposta da qui a qui perché siamo nella pagina presentazione siamo più nella home page e giusto per essere chiari questa classe active è quello che fa diventare questa scritta più bianca ok opzione uno opzione due loro dicono invece di andare a incollare questo per ogni singola pagina facciamo tre blocchi uno qui uno qui e uno qui e in base a quale blocco andiamo a riempire andremo a riempire il blocco con active e allora in base a quale blocco andiamo a riempire mettiamo l'active qui oppure qui oppure qui quindi tre mini blocchi perché abbiamo tre pagine in questo momento tutto statico abbiamo solo tre pagine se generassimo ovviamente la url da una lista non sapremo quante pagine abbiamo però questo active si sposta in base alla pagina in cui siamo e quindi andiamo a riempirlo in base alla pagina in cui siamo tre mini blocchi andiamo con i tre mini blocchi ok allora in questo caso ovviamente i tre mini blocchi è una soluzione un po' più elegante rispetto a copiare incollare tutto perché sennò dobbiamo duplicare codice nella pratica poi è difficile che questi link siano statici siano messi fermi così cioè la home page sì ci sarà però le altre pagine sarà magari server a generarle quindi quando si genera la pagina con un for si andrà a mettere anche l'active nel posto giusto quindi nella pratica quello che capiterà è che in realtà se la navigazione è generata automaticamente capiterà che avremo un blocco che contiene tutto questo perché in realtà in quel blocco ci sarà un cico for che genererà gli li nel posto giusto la pagina giusta adesso non ce l'abbiamo quindi andiamo con tre mini blocchi come li tre mini blocchi quindi cosa scriviamo questo per cento bloc per cento ok home e qui no and block e abbiamo detto che la chiamiamo home si chiamiamola home active così ci ricordiamo che non è una home qualunque ma e facciamo la stessa cosa per gli altri due dove ovviamente uno la chiameremo about active e contact active così ci ricordiamo il nome delle pagine ok ora andiamo avanti abbiamo detto che la sidebar sarà un blocco la facciamo dopo prima dobbiamo decidere che cosa mettere in un blocco per riempire non solo il post ma potenzialmente tutti i post che potremmo mettere nel main ipotizziamo facciamo finita da averne tre se abbiamo uno solo mettiamo tre quindi dove cosa mettiamo nel blocco mettiamo tutto quello che c'è dentro main o mettiamo quindi includiamo main nel blocco oppure no quindi facciamo un blocco subito dopo raw oppure facciamo un blocco subito dopo main abbiamo detto non facciamo un blocco subito dopo article perché vogliamo gestire più articoli anche se ovviamente potremmo e dovremmo ciclare su però questa è anche la struttura base da cui tutti ereditano quindi dopo il main ok benissimo perché questo è appunto essendo la struttura base se avessimo più articoli semplicemente cicleremmo e riempiremmo questo blocco ma se fossimo nella pagina dei contatti o della presentazione qui dentro andiamo a mettere le informazioni di presentazione e quindi non cicleremo sui blog post ok quindi tutto questo lo cancelliamo e qui andiamo a definire un blocco che chiamiamo main per esempio perché è il contenuto o content chiamiamolo content perché è il contenuto principale e and block ok e poi facciamo la stessa cosa sulla sidebar quindi dentro side block chiamiamola sidebar e and block poi prima abbiamo detto facciamo anche un blocco per i footer ci serve un blocco per i footer cosa potrebbe cambiare qui certo dipende se cambia oppure no ovviamente ma al momento per le informazioni che abbiamo nel footer non vedi informazioni che potrebbero cambiare no perché il corso si chiama così l'anno siamo ancora nel 2022 2023 quindi per un pochetto siamo tranquilli Politecnico di Torino siamo ancora qua avevamo scritto Instagram che sarebbe stata l'icona che poi non abbiamo messo va bene però per ora è ancora vivo e l'email è un'email e poi c'è java scritto di bootstrap che ci serve in tutte le pagine se usiamo bootstrap in tutte le pagine quindi un blocco sul footer al momento non ci serve poi semmai ci accorgessimo che ci servisse facciamo sempre tempo a tornare indietro e dire no l'anno lo mettiamo in un blocco perché ogni pagina se lo cambia boh ok però al momento non ci serve e questo è il nostro template di base ora andiamo a far sì che tutto questo è reediti dal template di base quindi qual è la primissima cosa che bisogna scrivere affinché possiamo ereditare dal template di base eh sì certo ma non extend così ma prima bisogna scrivere graffa per cento extend extend o extenso e poi che cosa estendiamo? base html tra virgoletto no e scriviamo base html ricordate perché siamo nella stessa cartella perché se fossimo in una cartella diversa dovremmo anche scrivere il percorso in cui per raggiungere base ma in questo momento siamo nella stessa cartella quindi ok poi cosa cancelliamo da qui? iniziamo a cancellare un po' di roba cancelliamo da riga 2 a fin dove cancelliamo? fino a riga 6? perché? fino a riga 6? che cosa si ripete? adesso utf8 però abbiamo cancellato fino a riga 6 no noi abbiamo detto che in base c'è già utf8 c'è già tutto quindi se estendiamo ce li prendiamo gratis il primo blocco che abbiamo è sul titolo che però è una stringa quindi lo riempiremo però e poi il secondo blocco che abbiamo è sull'active e poi il terzo blocco che abbiamo in realtà che è quello che contiene tutto e sono i due sono il contenuto e la sidebar quindi possiamo cancellare tutto fino a andremo a mettere il titolo e gli active ma fino ad allora cosa cancelliamo? qual è il primo blocco grosso che andiamo a riempire? il main quindi cancelliamo tutto fino a andiamo a controllare main ce l'abbiamo quindi dobbiamo cancellare anche il main bene lasciamo l'articolo perché ci serve cancelliamo anche la side per lo stesso motivo lasciamo il contenuto perché ci serve e cancelliamo tutto il resto perché li ereditiamo dal blocco dal template di base ora questi dobbiamo andare a mettere dentro dei blocchi quindi ora riempiamo i blocchi che abbiamo abbiamo il blocco titolo come riempiamo il blocco titolo? e cosa devo scrivere affinché possa riempire il blocco titolo? block title in questo caso home con una o sola e poi end block come prima bene poi qual è il nostro prossimo blocco? l'active giusto? sì quindi questi prendiamo solo il block home active e che è già dentro il CSS quindi semplicemente qui dovremmo scrivere active che è la classe CSS da riempire in quel momento poi il nostro prossimo blocco è content giusto? content e andiamo a mettere in content l'articolo perché è tutto quello che abbiamo nella home page in questo momento e chiudiamo il blocco e facciamo la stessa identica cosa con l'altro blocco che abbiamo detto si chiama sidebar 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 ovviamente questo non qui ok blog sidebar il contenuto della sidebar che mettiamo un po' più a destra a sinistra così siamo posti e poi end block salva vi torna sì no siete ancora qui in che aula siamo domanda di in che aula siamo ok questa quindi vi torna questo facciamo anche una pagina di bout che lasciamo vuota giusto per per vedere che anche l'acti funziona ok quindi copiamo la index e chiamiamola about che sarà la nostra presentazione dove qui si chiamerà presentazione questo non sarà la home active ma sarà la about active e nel contenuto boh scriviamo blog del corso di iniziato a cos'era ottobre 2022 giusto per scriverci qualcosa e e la sidebar possiamo lasciarla uguale se volessimo e poi cosa ci manca oltre ad aver creato la pagina about ci manca una cosa perché sennò la pagina about non funziona il collegamento nell'href qui dc giusto quindi qui anche per la home in realtà ci serve per la home è tanto sempre la root quindi non andiamo a fare niente di complicato per qui per questo qua cosa scriviamo or for che cosa ci serve anche la root già non ci basta solo questo ma la scriviamo dopo la root quindi chiamiamola about la root about con le virgolette giusto come stringa e ci serve anche la root perché sennò questo where for non funziona quindi andiamo in app.python e qui andiamo a mettere app.root chiamiamola about e facciamo def about visto che l'abbiamo chiamata così return render template about .html si o no manca qualcosa possiamo provare a eseguirlo manca qualcosa possiamo provare a eseguirlo proviamo a eseguirlo vista la grande scusa si però lasciamo la work in progress tanto nella base la pagina di contatti ha comunque come urrello un cancelletto quindi anche cliccando funziona tutto no? in teoria ok allora lanciamolo e vediamo che c'è un errore questo errore lo vediamo perché è attivo il modulo di debug se non avessimo avuto attivo il modulo di debug questo non lo vedremmo ok? io l'ho lanciata come dove è finito? come flask meno meno debug quindi dato che c'è la modalità debug attiva dentro il browser vediamo un errore che è un errore di sintassi sì perché tutti i nomi dei blocchi devono essere identificativi validi in python quindi nonostante ci sembri di scrivere html perché in realtà siamo in una pagina che assomiglia tanto all'html dove usiamo nomi tipo container meno fluid quando dobbiamo usare i blocchi dobbiamo usare variabili valide python quindi per esempio adesso in questo momento si su quale ci dice anche qual è il primo da qui d'errore home active ovviamente perché è il primo che prosegue in ordine per visualizzare la index chiama questo quindi home active about active contacts active sono gli unici che hanno questo problema perché contenuti sidebar sono una parola sola quindi non abbiamo questo problema e dobbiamo anche andarla a modificare ovviamente nei template home underscore active e about underscore active ok vediamo se l'abbiamo risolto ok questa è la home direi che ha tutto e questa è la pagina di presentazione che continua ad avere tutto ovviamente il footer è in basso perché la sidebar occupa lo spazio verticale e credo che qui forse c'è un po' di spazio ma avendo forse aumentato lo zoom no si potrebbe aggiungere un po' di margine magari più di queste scritte nel footer per esempio quindi style potremmo dire che cos'è questo footer potremmo provare ad applicarla tutto footer e dirgli che ha un margine sinistro di di 0.2 rem non so quanto siano un po' poco facciamo 0.5 rem per esempio e vedete che ovviamente tutto continua a funzionare come come prima quindi e se premiamo su contatti non succede niente perché non abbiamo la pagina contatti quindi giustamente non succede niente ok ora proviamo a fare l'altra cosa che abbiamo visto a lezione cosa abbiamo visto a lezione oltre ai template giovedì le route dinamiche che cosa può diventare una route dinamica in questo sito i post l'unica cosa che può diventare una route dinamica sono i post perché non c'è nient'altro che non sia predefinito perché le pagine o in presentazione i contatti sono definite non è che possiamo cambiarle in base a un id invece i post potremmo avere il post che ha id1 il post che ha id2 eccetera quindi avere la pagina del singolo post quindi noi clicchiamo su il titolo e adesso invece di andare qui andiamo su un'altra pagina che ha il contenuto del post e il contenuto che è un contenuto giusto nel senso che se noi abbiamo se noi clicchiamo sul titolo del post che si chiama CSS vedremo il contenuto del post che si chiama CSS e se noi abbiamo il contenuto di un post che si chiama HTML allo stesso modo andremo nella stessa pagina template ma ovviamente con un contenuto diverso allora prima facciamo un cambiamento che è quindi chiediamo base perché non ci serve chiediamo about perché non ci serve e creiamo una struttura dati che contenga due post con le sue proprietà ok? così possiamo passare la variabile alla index e renderizzarla con un for allora creiamola dentro la index tanto al momento ci serve solo lì quindi che struttura dati usiamo? chiamiamola post perché saranno tanti post sì sì una lista direzionale un array direzionale quindi facciamo un array facciamo una lista che non è questa di dizionari quali sono le informazioni che ci servono? ci serve un titolo poi direi che ci serve una data ci servirebbero i tag quindi titolo partiamo andiamo in ordine titolo quindi primo posto titolo e abbiamo detto che il titolo è CSS poi data e abbiamo detto che la data è questa qua poi tag che abbiamo detto essere CSS poi il contenuto che possiamo metterlo così tanto è solo una frase quindi content present il nome dell'immagine quindi chiamiamola immagine e basta perché i commenti in realtà sono sulla stessa pagina sono solo un'ancora sotto che si chiama commenti quindi il nome dell'immagine che potremmo anche stabilire che per convenzione non lo mettiamo perché per convenzione potrebbe essere il titolo del post punto jpeg quindi noi definiamo che le nostre immagini sono tutte jpeg e si chiamano tutte come titolo del post intanto lo facciamo a mano e poi creiamo un altro che chiamiamo html che avrà come data boh prima e facciamo il 4 ottobre come tag html e come contenuto html ricopiamolo sta per sta per hypertext markup language e in questo post ne parleremo meglio ok e boh a questo punto dobbiamo passare la nostra lista di post a il template e lo facciamo con come lo facciamo sì nome che vogliamo dare uguale post che come abbiamo detto spesso capita anche se questo aumenta la possibile confusione di usare i stessi nomi così siamo più comodi a questo punto dentro index avremo a disposizione una lista di oggetti che si chiama post e dobbiamo fare un ciclo for per stamparla tutta cosa scriviamo? per cento per cento scusate graffa per cento o graffa graffa? graffa per cento poi for sì post post in post e poi dobbiamo anche scrivere sotto and post and for giusto? e qui a questo punto andremo a mettere qui possiamo andare a mettere post.title perché il campo title avrà questo questo è di nuovo post.title la data sarà post.date il tag sarà post.tag ipotizzando che ce ne sia uno solo e questo sarà post.content post.image qui qui cosa scriviamo? andiamo avanti un attimo commenti sul post.title e poi la url la sistemiamo dopo cosa scriviamo qui al posto di questo virgoletto css.jpg perché abbiamo detto che il post per definizione si chiamerà l'immagine per definizione si chiamerà .jpg sì e titolo del post quindi css in questo caso e l'altra si chiamerà html .jpg non c'è ma dentro le virgolette quindi così dentro altre due graffe così io faccio tutto quello che mi dite non sto a tanto al massimo non funziona non è che si autodistrugge tutto e dava fuoco quindi proviamo così e vediamo cosa ci dice e a questo punto beh questo non sarà css beh questo titolo alternativo diciamo chiamiamola al momento foto da un splash sul e poi di nuovo post.title eh però abbiamo già cambiato idea abbiamo già cambiato idea eh si era già tra due graffe quindi il problema togliere le graffe sì e anche la virgoletta così ci piace di più quindi come fosse una variabile qualche punto utilizziamo più conteniamo il resto della stringa in realtà css minuscolo però un problema alla volta ok per ora sistemiamolo così ok quindi salviamo e vediamo cosa succede sembra che così sia andato fatemi trovare come si fa fatemi fare un hard reload così siamo sicuri di portarci quindi abbiamo il css giustamente e l'html che non abbiamo la foto perché perché non abbiamo la foto però la stessa struttura e se guardiamo l'html dovremmo avere se guardiamo il codice html della pagina chiudendo questa cosa dovremmo avere due article uno che è quello dell'html e uno che è quello del css per cui se ne avessimo invece di due e cinque semplicemente tutto continuerebbe a funzionare basta mettere più posto dentro la struttura dati ora prima di arrivare le urdinamiche questa file non si chiama css maiuscolo si chiama css minuscolo in realtà e in questo caso non gli cambia molto però se volessimo fare i precisi e dire ok questo si chiama css minuscolo invece il titolo è maiuscolo perché ci sono sistemi operativi che sono case sensitive e quindi gli fa differenza css maiuscolo e css minuscolo quindi è bene usare la stessa capitalizzazione delle lettere è quello il problema come si fa il to lower in python c'è la funzione certo questo che si chiama no upper è il contrario noi dobbiamo lower quindi se ne andiamo di qua adesso qui non vedremo l'effetto se funziona punto lower se torniamo di qua ovviamente non vediamo l'effetto ma se faccio anche empty reload e guardiamo comunque l'html per quanto si vede css è scritto minuscolo quindi il lower io non ho capito che non è case sensitive linux non è case linux è case sensitive il sito operativo il sito operativo su cui gira il server maiuscolo il nostro problema artificiale è che noi prendiamo il titolo che è maiuscolo ma il nostro file si chiama css minuscolo se il server che in questo momento è il mio computer fosse case sensitive il sistema operativo fosse case sensitive lui non troverebbe un file che si chiama css maiuscolo punto jpeg perché non c'è c'è un css minuscolo punto jpeg e quindi non potrebbe fornire al browser il file giusto un conto è il comando che tu dai nel terminale che ovviamente ha le sue regole un conto è la lettura di file però se tu fai un import di un file per esempio ma anche in python se tu fai un import di un file se noi importiamo adesso non so se in Jinja fa questo controllo ma fosse python normale importassimo base con la b maiuscola su mac e su linux e su windows non ha problemi su linux non te l'importa perché ti dice che il file non esiste quindi dato che primo per buona pratica se il file è la letta minuscola e sappiamo che è la minuscola del titolo assicuriamoci che sia minuscolo quindi sanitizziamo la stringa che vogliamo per buona pratica di ingegneria del software non per poi certo se il sito operativo ci obbliga ovviamente siamo più ce ne accorgemo prima ma ok ora root dinamica noi vogliamo aggiungere un'altra root che quando clicchiamo sul nome sul titolo del post ci porti per esempio a slash posts slash un numero quindi ricordate cosa mettiamo qui per indicare intanto che c'è una variabile di qualunque tipo minore maggiore e il come vogliamo chiamarla come vogliamo chiamarla chiamiamo l'id che rispondiamo caratteri comunque è l'identificativo del post un post avrà un identificativo univoco ok poi def chiamiamolo single post e faremo return poi lo riempiamo render template chiamiamolo single .html per ora chiamiamo i file poi quindi prendiamo prendiamo la index e incolliamola di nuovo e chiamiamola single e a questa single lasciamo lo stesso titolo di prima e lo stesso active perché in realtà non abbiamo nella navigazione principale un nient'altro e qui invece andremo semplicemente a visualizzare l'articolo magari la sidebar la possiamo togliere per esempio potremmo anche lasciarla giusto per cambiare un po' le cose e qui ad un certo punto avremo sicuramente un qualcosa che è post quindi tutto il resto possiamo lasciarlo ovviamente se non è la pagina singola il layout potrebbe cambiare il layout del post per esempio qui invece invece di avere un P con il link e i commenti potremmo avere giusto per cambiare un po' qualcosa commenti un commento e poi adesso non le abbiamo però potremmo avere una lista di bellissimo post uguale per tutti e potrebbe essere una lista magari non ordinata cambiamo tipo di lista ok bellissimo post e abbiamo un altro commento che dice concordo e quindi sono due commenti e magari questo è un H4 ovviamente se avessimo anche tutti questi dati nel post avremmo anche un post appunto commenti da ciclare per stampare i commenti ma per ora abbiamo tutto in Python in una struttura dati in Python quindi lasciamo gli statici ma nella pagina no questo è per fare non sta a fare una cosa questo è per fare una pagina relativa all'articolo si quindi non dovrebbe stare nel main se non è come un articolo dove non dovrebbe stare l'articolo su è in main infatti è nel blocco content e poi c'è un blocco articolo eh si beh possiamo anche scegliere di toglierlo certamente però è un articolo quindi possiamo continuare a usare il blocco articolo è già in main ovviamente quindi possiamo dire beh quello che c'è in main è comunque un articolo quindi possiamo chiamare l'articolo e volendo questo h qua per esempio questo commenti potrebbe essere fuori d'articolo potrebbe essere dentro un blocco una section per esempio oppure potrebbe essere una section dentro articolo perché sono commenti dell'articolo però sì potremmo anche togliere articolo però dato che è un articolo continua a essere un articolo anzi prima era una preview di un articolo nella index qui è l'articolo intero quindi qui in teoria il contenuto dovrebbe esserci tutto di là dovrebbe essere solo tagliato i primi 20 parole qui invece potrebbe esserci anche 30.000 parole di contenuto per quanto no è l'articolo intero la pagina del singolo post del blog ok poi la navigazione in alto ovviamente è un po' farlocca adesso perché rimane collegata alla home potremmo togliere l'active sulla home se vogliamo e potremmo dire che questo in realtà è post title magari scrivere blog due punti post title come titolo io sto per variare un po' e abbiamo tolto l'active alla home non abbiamo messo niente perché non abbiamo una voce nella navigazione principale che sia il singolo post del blog ok questo però è in un certo senso il template del singolo post del blog ora noi abbiamo due post del blog quindi dobbiamo collegare il template al contenuto corretto giusto? quindi dobbiamo passare questo post in qualche modo come facciamo? beh qui scriveremo sicuramente post uguale post e va bene qui ci sarà un post uguale qualcosa e passeremo questo post come facciamo a mettere qualcosa dentro quel post cioè quel post dovrà essere una volta questo e una volta questo in base a che cosa? all'ID che abbiamo dato qui? post aperta quadra e D sì ma due problemi uno post non è definito perché ovviamente è dentro un'altra funzione quindi questa funzione non ha visibilità sul contenuto di un'altra funzione quindi almeno cosa dovremmo fare? uno alla volta o una alla volta vai potremmo mettere come variabile globale che è brutto però in questo momento è il meglio che possiamo fare così tutte le variabili tutte le funzioni in questa pagina hanno accesso a post ecco poi qui proviamo se funziona ok? dunque verifichiamo che sia tutto a posto il link ecco manca il link in realtà che questo a questo punto dentro la index deve essere url for vi ricordate come si definisce il link per una pagina per una route dinamica? perché qui vogliamo che scriva localhost 127.001 slash 5000 slash single no slash posts slash uno zero uno che scriva un numero quindi sicuramente dobbiamo scrivere url for single post che è la variabile il nome della pagina definita in app e poi il numero come facciamo a dirgli che qui ci vuole un numero? se sbirciate sulle slide di giovedì id non uguale a uno perché se no tutti i post linkano all'unico uno se io metto id uguale a uno vuol dire che per ogni post nel post la url avrà uno invece no deve essere zero nel nostro caso oppure uno ne abbiamo solo due ma quindi non id uguale a uno ci manca qualcosa sì ci manca sì potremmo mettere un id del post potremmo mettere un id nel post nel dizionario oppure sì potremmo iterare for i in post punto qualcosa sì quello anche manca quello era il prossimo pezzo sì si potrebbe trovare l'indice di post in quel ciclo e come si fa? si può allora sono tutte opzioni quindi possiamo ciclare quindi possiamo ciclare con i uguale a zero fino alla lunghezza di post possiamo modificare quel for in modo da prendere non solo il post non solo l'oggetto ma anche l'indice o possiamo definire un id all'interno del dizionario sono tutte e tre opzioni valide ora se noi invece di avere un dizionario in questo caso di un list di dizionario avessimo che ne so un database in cui ci sono queste informazioni avremmo già un id per ogni post gratis quindi aggiungiamo qui un campo id per simulare in un certo senso quello che farebbe un database e magari mettiamoci id uguale a uno invece che id uguale a zero per il primo così almeno non abbiamo una url che dice post slash zero quindi questo è l'id uguale a uno e questo è l'id uguale a due però anche le altre opzioni sono ovviamente possibili in questo momento senza differenza quindi è qui e a questo punto è post.id ok? poi se adesso proviamo lei ci ha spoilerato che non funziona perché lei diceva manca un int cosa vuol dire manca un int? esatto sì lo leggi come stringa non esistono i caratteri in python esistono le stringhe e tutto è una stringa anche un singolo carattere bisogna convertire a flask che questo non è un intero ma è una stringa esattamente il contrario questa non è una stringa ma è un intero altrimenti questo post.id andrebbe a prendere andrebbe a cercare di farlo con la stringa ma ovviamente non può quindi questo è un intero e per come abbiamo definito gli id dobbiamo anche fare così se vogliamo usare questo metodo perché la lista conta da 0 il nostro id parte da 1 quindi oppure anche qui potremmo cercare nella nel dizionario quello che ha come campo id l'id corrispondente che sarebbe più pulito di fare così ok? proviamo se va allora la home page continua a funzionare la pagina di presentazione continua a funzionare questo ha come url 127 eccetera slash posts slash 1 quindi giusto questo slash 2 e se noi schiacciamo su CSS certo ci dà un errore cosa ci siamo dimenticati? l'errore è single post ha ricevuto un argomento che non si aspettava che è id esatto non abbiamo bisogna sempre ricordarsi che questo id qui deve essere passato alla funzione altrimenti poi non si può usare nel corpo della funzione e questo bind tra il parametro della root e il parametro del metodo lo fa flasco automaticamente quindi riproviamo ok e vedete che questa è la pagina nuova perché c'è questo i nostri due commenti che abbiamo prima non c'è niente active e se noi schiacciamo su home torniamo alla home e stessa cosa per html ovviamente e la foto sempre manca perché non c'è ok bene allora se adesso andate a prendervi un caffè facciamo 20 minuti di pausa se no facciamo comunque 20 minuti di pausa ma prendetevi un caffè